Musica Salve a tutti i spettatori e benvenuti in questa nuova lezione di Javascript Oggi siamo qui come da titolo appunto per vedere come manipolare il nostro template HTML Tramite Javascript Come vi ho detto Javascript è un linguaggio di programmazione Quindi ci permette di rendere dinamici gli elementi che ci sono all'interno della nostra pagina Significa che tramite il codice noi possiamo modificare degli elementi che ci sono Aggiungere un pazzo di template, cancellare un pazzo di template a seconda di quello che ci serve Tutte queste cose sono scaturite da degli eventi che vedremo fra due lezioni Che a loro volta chiamano delle funzioni che vedremo nella prossima lezione Ma all'interno di tutto questo ci sono delle istruzioni specifiche che ci permettono di fare queste cose Che sono quelle che andremo a vedere oggi Allora tanto per cominciare siamo partiti qui dal nostro codice Per questo momento che cosa facciamo? Lasciamo questo codice qui In realtà cancelliamo queste prime tre variabili che non le stiamo usando E che cosa facciamo? Andiamo a scrivere un pezzo di codice HTML Ad esempio del testo Ok? Questo è un testo Ciao come va? In realtà non ci interessa quello che c'è scritto qui Possiamo scrivere qualsiasi cosa a noi non interessa L'importante è dargli un id E l'id ad esempio test A questo punto come ho detto qui dentro non ci interessa Quindi tanto vale che lo lasciamo vuoto Questo p Ora andiamo a vedere una funzione molto importante Come vi ho detto Andiamo qui Facciamo ad esempio var test Questa variabile rappresenterà tutto questo elemento HTML Cosa andiamo a fare? Andiamo a assegnargli il risultato di questa funzione Ossia document Che vi ricordo è la parola chiave che rappresenta il documento corrente La pagina corrente Punto get element Allora cosa fa questa funzione? Questa funzione va a ritorna praticamente un elemento E possiamo recuperare all'interno di tutta la pagina HTML Tramite gli id che passiamo qua Quindi praticamente lui tramite questa funzione Guarda in tutta la pagina Trova l'elemento che come id ha test E lo mette dentro questa variabile Infatti se ora andiamo a fare un console Andiamo a scrivere test Vediamo quello che ci stamperà Andiamo subito a vedere il risultato Andiamo sul nostro ispeziona Console Refresciamo Come vedete ci scrive esattamente l'elemento HTML Che ha l'id test A questo punto che cosa si può intuire? Si può intuire che se noi abbiamo accesso all'elemento HTML Tramite questa variabile Possiamo definire tutte le sue proprietà Ma questa è una cosa che andremo a vedere fra un attimo Prima mi interessa farvi vedere la funzione innerHTML InnerHTML inietta all'interno dell'elemento HTML Del testo Ok? O dei pezzi di HTML In che senso? Ad esempio Questo lo trasformiamo in un div Così almeno dopo vi faccio vedere un esempio più articolato E qui al posto di fare document.write Andiamo a fare test Test sta per questo Questo elemento HTML Punto innerHTML E andiamo a fare uguale Togliamo le parentesi E gli passiamo del testo Praticamente gli stiamo dicendo Inietta del codice HTML Ossia questo testo Dentro questa variabile Questa variabile praticamente rappresenta L'elemento HTML Div con id test Quindi inietta questo testo Dentro l'id Dentro l'elemento con id test Facciamo la stessa cosa sotto Rimanga come abbiamo fatto prima E ci accorgeremo che invece di scrivere qui il testo Come funzionava il document.write Lo inietterà all'interno del nostro div Andiamo subito a vedere Fresh Ok qua a noi non cambia nulla Ma se andiamo su ispeziona Condizione falsa come testo Viene inserito all'interno del div Ok non viene scritto dove c'è lo script Ma viene iniettato dentro il div Ora ve lo faccio notare in una maniera Nel senso che questa volta Dentro l'id test Non ci andremo ad iniettare un semplice testo Ma andremo ad iniettare a tutti gli effetti del codice HTML Quindi test.innerHTML Uguale Con scritto ad esempio Head Ok quindi lui inietterà tutto questo codice HTML Qui dentro al div Andiamo a vedere Qui c'è il div con id test E qui dentro c'è l'header Ora la cosa interessante La cosa interessante è che noi la scorsa volta abbiamo visto dei cicli Quindi se noi ora andiamo a creare un ciclo Var I uguale a 0 I minore di 5 Gli facciamo fare 5 volte questa cosa I più più Che cosa andiamo a fare? Praticamente gli stanno dicendo di svolgere questo codice 5 volte Ok? Quindi la comodità di questa cosa qua è appunto andare a iniettare questo codice 5 volte Ovviamente qui non ha molto senso farlo così Ma se fosse un div dentro un div Per esempio facciamo finta che questo sia un box Ok? Quindi come classe a box Ovviamente qua dobbiamo usare i backslash Perché sennò va in conflitto O sennò potremmo utilizzare l'apostrofo singolo per aprire e chiudere E che cosa gli diciamo? Praticamente diciamo per 5 volte Dentro questo div Che potrebbe benissimo essere una sezione Ok? Dentro questo div Mi crei 5 div Con la classe box Che dentro hanno un header Un h2 con un header E un testo E non funziona perché sono un deficiente Per il semplice motivo che mi sono scordato Che l'inner html Non aggiunge cose sopra l'altro E male sovrascrive Infatti vi faccio vedere che anche se noi scriviamo qualcosa qua Comunque qui rimane sempre uguale Perché lui va a iniettare qua dentro E sovrascrive quello che c'è già Quindi che cosa succedeva? Perché abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato perché ogni giro che faceva Scriveva sempre la stessa cosa sopra la precedente Come facciamo allora a questo punto A fare più volte la stessa cosa? Semplicemente andiamo a creare un'altra variabile Magari testo Testo più uguale Per dire aggiungi a quello che già c'era Questo Finito il ciclo Facciamo testo inner html Testi inner html uguale a testo Allora a questo punto dovrà scrivere quello 5 volte i nostri header E infatti eccoli qua Ok? L'ha scritto per 5 volte Come vedete non siamo stati a fare tutto il codice html Abbiamo fatto un semplice codice per scrivere tutto quanto Ora immaginate se fossero tipo mille Questo per farvi un esempio di scrivere tutti i post di un social network E i prodotti di un e-commerce eccetera Insomma ecco questa cosa la possiamo benissimo fare con javascript Ok? Ora per chi non avesse ben capito il codice Riavvolgo un attimo il nastro Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso l'elemento html tramite questa funzione L'elemento html Poi abbiamo creato una variabile testo Per accogliere tutto il testo html Che noi dovremo iniettare poi dentro questo div Dentro questo testo per 5 volte Siamo andati ad aggiungergli Questo pezzo di div Uno sotto l'altro Questo più uguale E' come scrivere testo uguale a testo Quindi quello che c'era già Più un altro pezzo Ok? E' la stessa cosa Solo che si riassume Con questo Una volta che dentro la nostra variabile testo Avevamo i 5 pezzi di html Che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo iniettati Tramite questa istruzione Li abbiamo iniettati dentro Così è venuto fuori tutta quella lista di box Ovviamente non sono box Perché non c'è del css qua Ecco apro una parentesi Se siete nuovi della programmazione Quindi non avete visto il corso dello scorso anno Su visual basic e java Vi lascio linkato qui la playlist Guardatevi prima quella Prima di imparare javascript Perché se siete Nuovi nel mondo della programmazione Vi consiglio di partire proprio dalle basi Non da un linguaggio come javascript Guardatevi prima quello Imparate E poi piano piano Capirete dove siamo arrivati A questo punto abbiamo imparato A fare la nostra istruzione Inner html Ma un'altra cosa che possiamo vedere Ad esempio E' se avessimo Una form Ok? Andiamo a inserire Dei campi Ora gli mettiamo Dei valori Presettati Andiamo a vedere un attimo Nostro codice html Come si è aggiornato Abbiamo questi due Con già dei valori Ovviamente noi qua li possiamo cambiare Però perché vi sto facendo vedere Questa cosa Con i valori Presettati Perché siccome Noi ancora Non abbiamo visto gli eventi Non possiamo fare in modo Che il codice javascript Si avvii Nel momento in cui Noi andiamo a scrivere Dentro l'imp Quindi facciamo finta Che l'utente Li abbia già scritti Dopodiché Andiamo a dare degli id Chiaramente Perché il nostro javascript Deve riconoscere questi elementi Tramite qualcosa Quindi gli diamo degli id Ad esempio Questo Lo chiamiamo Ora se andiamo un pochettino Più sotto Col nostro codice Vediamo che possiamo fare Come abbiamo fatto prima Ad esempio E facciamo di nuovo Tutto questo pezzo Di codice qua Ossia Document.getElementById Label E qui dentro Chiaramente Se avete capito Come funziona Ci prenderà Idem Facciamo la stessa cosa Per il numero Qua scriviamo Numero E ci prende tutto Queste variabili rappresentano Quindi Rispettivamente Questo e questo Elemento HTML Quindi possiamo accedere A tutto quello Che riguarda Questo elemento HTML Quindi incluso anche Il valore Quindi a questo punto Io posso dire Di stampare Document.write In questo caso Ovviamente Andiamo a stampare Dove si trova lo script Label.value Ok Questo significa Prendi il valore Posso dire Anche Quindi .type Lui sicuramente Riuscirà A leggere Tutti gli attributi Dell'elemento HTML Volendo anche Se scrivo .id Ok no Significa che io Praticamente Tramite questa funzione Posso accedere A tutto quello Che riguarda Questo elemento Tramite Nominando Il proprio attributo Andiamo a vedere Se la cosa Ha funzionato E come vedete Vabbè Me li ha scritti Come al solito Attaccati Ora zoom Un attimo Come vedete Qui c'è Ciao Che sarebbe Il Quello che c'è Il value E label Lid Me li ha scritti Tutti attaccati Perché? Perché l'HTML Scrive tutto attaccato Se noi non gli mettiamo Un br Ovviamente A noi ad esempio Interessa il valore Quindi che cosa Possiamo andare a fare Possiamo andare a fare Var Str Uguale Label .value Avete Label .value Non possiamo accedere Al valore Ma ancora meglio Se noi facciamo Ad esempio Var x Uguale a Label Punto Non label Scusate Numero .value Ora Questo numero .value Chiaramente ci ritornerà Il numero 50 Che è contenuto Qui dentro Però Noi Vogliamo Questo numero Per fare dei calcoli Ad esempio E ora come ora Sicuramente Ce lo calcolerà Come stringa Oppure no Andiamo a vedere Effettivamente Come funziona Come facciamo a saperlo Lo scopriremo così Con document .write Type Of Str Praticamente Dice Scrivimi Di che tipo È questa variabile E type Of X Stamperà Praticamente Che tipo Sono Ci dice String String Per l'appunto Quindi sono Tutte e due Delle string Ora Io questo qui Lo voglio Invece Numero Come faccio Faccio Prima di tutto Una funzione Per vedere Che Type Of X Uguale Uguale A String Quindi Il tipo Della variabile X È una stringa Allora Tu vai a fare X Uguale Parse Int E dentro Ci passo X Ossia La X Me la converti In un intero E Fatto questo Document Punto Quindi se tutto va bene Qui dovrebbe risultare Numero Andiamo a vedere E infatti funziona Praticamente Che cosa è successo È successo Che noi abbiamo preso Il valore 50 Alla L'input Ma lui lo legge Come stringa Poi ci siamo chiesti Il tipo Della variabile X Quindi questo 50 È una stringa Sì Se è una stringa Allora convertimelo In un intero Questa è la funzione Per convertirlo In un intero Se avessimo voluto Convertirlo In un decimale Dovevamo fare Parse float E a questo punto La nostra X Sarà di tipo Number Sia che la convertiamo In intero Che la convertiamo In float Comunque il tipo Rimarrà Number E a questo punto Stampiamo il tipo Della X Questo dovrebbe Aver funzionato Se invece di stamparci String Ci stampa Number Infatti come vedete Adesso che l'abbiamo Convertito in float Rimane sempre Number Comunque Questo è un metodo Per convertire Le stringhe Ovviamente invece Se abbiamo un numero E lo vogliamo Convertire in stringa Vabbè Non c'è nessun problema Fare una cosa del genere In teoria Potremmo convertire Anche ad esempio Noi mettiamo Una variabile Str qua E gli passiamo Una stringa Con true o false E la convertiamo In booleano Ad esempio Allora Per convertire In boolean Non era Apparse boolean Ma era solamente Boolean Ok Infatti Come vedete Qui ci ha stampato Boolean Quindi per convertire Invece una stringa In booleano Ma penso anche Un numero Proviamo ad esempio Con un numero Mettiamo 0 Lo converte sempre In boolean Magari stampiamo Direttamente il valore Del booleano Ora Sono curioso di vedere Che cosa stampa Dovrebbe stampare False Ok Quindi praticamente Come funziona Se abbiamo Una stringa E la passiamo A questa Questa sorta di costruttore Questa funzione Boolean Qui ci ritorna Il valore In booleano Quindi o true o false Se gli passiamo Un numero Invece Se è 0 Convertito in boolean Diventerà ovviamente False Se invece Ha un numero Diverso da 0 Quindi 1 O maggiori Cioè nel senso Qualsiasi numero Che non sia 0 Invece Risulterà true Infatti qui se ad esempio Ci mettiamo anche un numero Negativo Dovrebbe comunque Scriverci true Infatti Ok Queste sono le classiche Funzioni boolean L'ultima cosa Che posso farvi vedere Effettivamente Tramite Il document Punto GetElementByD È effettivamente Come modificare Il template CSS Utilizzando La proprietà Style Ok E noi possiamo dirgli Style Punto Color Quindi in questo caso Il colore del testo Ha red Lo fai diventare red In questo caso adesso Noi che cosa abbiamo fatto Il colore Del testo che si trova Dentro al div test Diventerà rosso Non ha funzionato Perché? Perché non abbiamo Fatto l'inner HTML E quindi è andato via tutto Idem Se noi facciamo invece Test.style Punto Background Color Con la c maiuscola E il color Lo mettiamo Background Il color Lo mettiamo yellow In questo modo Noi possiamo modificare Tramite javascript Anche tutte le Tutte Dico tutte Le proprietà CSS Ma che cosa serve questa cosa? Beh In questo momento Sembra inutile chiaramente Perché dite se io questa cosa La devo fare dall'html Cosa serve? Ma ricordatevi che Come ho detto in inizio video Tutte queste cose Vengono scaturite Da degli eventi Se ad esempio Noi apriamo il nostro sito E ce lo troviamo così Nulla ci impedisce Che cliccando un pulsante Questo colore Non cambi Capito? Quindi praticamente Mentre il nostro sito È in un modo Intanto che noi lo visitiamo Cliccando un pulsante O scrivendo dentro qualcosa Eccetera Possono cambiare Le cose del nostro sito Come avevo fatto vedere Ad esempio Il menu a tendina Il menu a tendina Cosa succede? Quando vado a cliccare Sulle tre barrette Si attiva un codice javascript Che fa comparire Quel pezzo di html Quando lo riclicco Lo fa scomparire Quindi gioca col display Block none Di default sarà display none Quando clicco lì Il display diventa block E quindi ce lo fa vedere Quando riclicco Da block torna none Quindi non ce lo fa più vedere È questo che serve Effettivamente Modificare il css Tramite javascript L'ultima cosa Di cui parleremo oggi È il fatto che Per l'appunto Come nel css Quando il codice javascript Diventa tanto lungo O lo dobbiamo utilizzare Per più pagine Non conviene Fare una sezione script Così Ma conviene Fare proprio un file a parte Quindi noi andiamo Ad aprire adesso Un nuovo file Ci scriviamo Il nostro codice javascript Lo salviamo Qui andiamo a creare Una nuova cartella Chiamata jss E qui ad esempio Facciamo Index.js Ok E qui ci andrà Tutto il nostro codice javascript Dopodiché Per allegarlo Sempre Sempre Dove ci serve Quindi non nel led Come nel css Ma Si mette dove ci serve Si fa rsrc E gli diamo il percorso Js Slash index.js Come vedete Non cambierà nulla Per noi Ok Non è cambiato nulla Perché abbiamo Semplicemente Trasferito Dalla pagina html Il codice javascript In Un file Javascript Dove qui Possiamo mettere Tutto il codice Che vogliamo Qual è la comodità Come ho detto prima Questa cosa La possiamo richiamare In altre pagine Quindi non abbiamo Bisogno di scrivere Tutto questo codice In tutte le pagine Cioè copiarlo In tutte le pagine Lo scriviamo In un file javascript E poi lo chiamiamo Tramite questa istruzione Qua html In tutte le pagine Html Che ci serve Detto questo signori Per questo video Vi ho detto tutto Vi invito a lasciare un like A condividere questo video In modo tale che può essere utile Anche a altre persone Iscrivetevi per un nuovo video Come questo Ci vediamo in un prossimo video Tutto ora Grazie per la visione